Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo un video, facciamo una casa di legno, stiamo mettendo tutti i legni, guardate il progetto qua, non so se capite ma qua, poi c'è questo qua, ok, e questi due sono fatti, sto facendo la casa con mio papà, sono qui al mare e adesso faccio salutare il mio papà, ciao, ok, e lui mi aiuterà a fare la casa, poi dovremo riandare delle cose perché facciamo soltanto scheletro e cose, dopo vi spiego, e adesso stop un attimo che ci metterà un po' di tempo a scaricare, ci vediamo nel prossimo video, iniziando ho finito di scaricare, è tutto a posto e iniziamo a fare la nostra casa, allora, dobbiamo capire qua perché la dobbiamo fare qua, ok, allora, facciamo il progetto, allora, e vado a prendere una la più tante, a uguale 1,7 metri, e qua, e uno, è fatto, questo qui non ci serve, adesso iniziamo in questi due, e l'altro pezzo, è fatto, papi, con questi facciamo lo skate, ok, adesso abbiamo fatto la base, e dobbiamo iniziare i pilastri, faccio vedere un attimo la base, ok, l'avete vista, e qui la tagliamo con un quello, adesso dobbiamo fare gli altri e ci salutiamo, ciao, oggi è il secondo giorno e continuiamo la casetta, adesso c'è pure mio fratello che ci guarda, Jack saluta, ciao, ciao a tutti ragazzi, oggi terzo giorno e continuiamo con la casa, abbiamo fatto il pezzo, la porta fatta, con l'aiuto anche, ok, e adesso continuiamo ancora, a fare la finestra, e poi, se abbiamo tempo, facciamo le perline, altrimenti la facciamo al quarto giorno, ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, oggi è il, bah, che giorno è? oggi è il quarto giorno e iniziamo a ricostruire la casa, sono riandato al brico a comprare delle altre cose, i pannelli, adesso facciamo la finestra e mettiamo e facciamo una parete di perline, ci rivedremo al quinto giorno, ciao, ah, mi sono dimenticato che c'è qui anche il mio fratello, Jack, di ciao, ciao, adesso lui guarderà soltanto, ci passerà dei pezzi e poi vedremo se possiamo continuare, ciao a tutti ragazzi, abbiamo finito il tetto, siamo al sesto giorno e iniziamo il tavolino, ragazzi, c'è, stiamo mettendo le ferline, guardate come sta venendo, c'è, io non lo sapevo, ma le perline sono proprio strabelle, amma mia, ciao a tutti ragazzi, oggi è il settimo giorno e stiamo facendo la casa ancora e abbiamo finito, una bella parete, ciao a tutti ragazzi, oggi è il settimo giorno e guardate un po' come è venuta la nostra amata casetta, con le due finestre, la lucina accendi spegni, che si può anche togliere perché ha la calamuta, l'extra scatolina, magica, infilata, due buchi ed è tutto, iniziamo a fare il tavolino, ciao a tutti ragazzi, oggi è l'ottavo giorno, continuiamo la casa, iniziamo, una finestra, la porta, tavolo e tetto, ciao a tutti ragazzi, oggi è l'ultimo giorno, ed è il nono giorno, facciamo le due finestre, la porta e la mensoletta, quindi iniziamo il lavoro, ciao a tutti ragazzi, oggi è il giorno finale e vi faccio vedere che cosa ho combinato, roba pazzesca, roba pazzesca, guardate un po', qui ho messo un bel lucchetto e anche dentro, poi abbiamo messo la lucina accendi spegni, la mensoletta porta snack, il tavolino che ovviamente sotto si gira, la super scatolina, le finestre, poi qua abbiamo appoggiato a L, mi ha aiutato anche il mio papà, ok? Ciao ciao! 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 Ciao!